Perché finora Chico non era rientrato? E cosa significa che ci hanno illuso e che ci hanno raccontato delle papacche? Ma che non esista un giornale che rettifichi una notizia data sbagliata, ma fanno tutti orecchie da mercante, un governo o un politico che ammetta di aver sbagliato? Cioè non è che sono persone, fanno la cacca, scoreggiano, possono sbagliare, no? Potrei tendere verso l'eroicità di Macca e non è un eroe perché ovviamente gli eroi non uccidono, però dentro di me c'è una cheerleader che sta cantando e ballando con i pompon dicendo E lo devo ammettere. In ogni caso vorrei soffermarmi sulla parola resipiscente E buonasera ragazzoni, ho appena dato un pugno contro un farm, mi sento da malissimo Devo rifarlo ragazzi, scusate E buonasera ragazzoni, benvenuti o bentornati in questo nuovo TG Crime In cui vi devo portare davvero tantissimi tragici come al solito casi Ma c'è anche una buona notizia Finalmente pare sia vero che Chico Forti torna a casa Ma non parliamo soltanto del Chico Forti che torna a casa Ma parliamo anche di come mai non è tornato prima Quanto ci vorrà per il suo rientro E se è davvero credibile che una volta tornato in Italia possa davvero finire in libertà vigilata Cosa che io sinceramente già vi dico dubito fermamente Poi dobbiamo parlare del giallo risolto finalmente di Andrea Bossi Ucciso nel suo monolocale a Cairate E dobbiamo parlare di un caso che mi ha commossa davvero tantissimo Quindi io già vi dico che credo che mi usciranno le lacrime a fiumi Il caso di Macca Questa ragazza giovanissima, 18 anni Che ha ucciso suo padre per difendere se stessa e la madre dalle violenze Un caso molto simile a quello di Alex Cotoia Ex Alex Pompa, forse lo conoscete meglio con questo cognome Ma lui mi ha espressamente chiesto di chiamarlo col cognome della madre Noi rispettiamo ovviamente la sua volontà Davvero molto molto simile anche se qualche piccola differenza E poi parleremo di quello che io adesso mi odierete tutti Chiamo maschicidio Un delitto in piena regola Proprio sulla base di quello che di solito chiamiamo femminicidio Una donna che uccide il suo compagno per gelosia Mi raccomando voi dello YouTube Ricordatevi di iscrivervi al canale C'è un bottoncino sotto di me Rosso, invitante, sexy come una fragola ricoperta di panna Quindi cliccateci sopra e io vi voglio tanto bene E mi raccomando venite a trovarmi su Twitch In questo momento sono in compagnia di queste meravigliose persone Che stanno aspettando di essere lette Sono qui in diretta con me E ci troviamo ogni sera alle 20 Non è vero Ci troviamo il martedì, il giovedì e la domenica Sempre ore 20 Sia col TG Crime sia con le storie Se venite potete contribuire alla mia confusione mentale Chico Forti raga Ormai è notizia di giorni or sono Però lo sapete A me piace fare la colonscopia delle notizie E mi piace spiegarvi e contestualizzarvi un po' meglio Che cosa è successo con Chico Pare che ce l'abbiamo fatta ragazzi Pare che ce l'abbiamo fatta Dopo tante promesse non mantenute Dopo tempi in memory Che solo Bugalalla sa cosa significa No vabbè 24 anni Direi che sono ben più di due Quindi Chico lo sa meglio di me Cosa significano i tempi in memory E Chico Forti Oggi 65enne Potrà tornare in Italia Non nell'immediato eh ragazzi Non nell'immediato Ci saranno probabilmente settimane O qualche mese da Dover aspettare Perché appunto ci sono delle Pratiche che devono essere sbrigate In modalità Vogon Perché non sapesse chi sono i Vogon Guardatevi la guida galattica per autostuffisti E non ve ne pentirete E se leggete il libro è ancora più bello Ma è bello anche il film Comunque Lui è stato in carcere Per 24 anni A Miami Florida Per appunto una condanna all'ergastolo Senza condizionale Per omicidio premeditato Quindi lui è stato condannato Per omicidio premeditato Poi se vi volete recuperare Tutta l'analisi del suo caso Quello che io penso Rispetto al suo caso Poi anche questo è un caso Molto dibattuto Perché ci sono tantissime dinamiche Che si vanno a contraddire Insomma datevi a recuperare il mio video Che ormai ha più di due anni Quindi adesso Ruma vi linkerà L'ha già fatto Incredibile Ruma Incredibile Vi linkerà il video Così se ve lo volete recuperare È lì In ogni caso La sua condanna Ricordatevelo bene È lifetime without parole Quindi proprio Ergastolo Senza condizionale Cioè non Non è che può richiedere La libertà vigilata Carceravita Punto Cioè lui doveva morire In carcere Secondo appunto Gli Stati Uniti Che succede? Che Giorgia Meloni La nostra Presidente Appena uscita Dall'incontro con Biden Alla Casa Bianca A Washington Ha pubblicato Un reel Sui social In cui ci ha dato La buona notizia E dice Sono felice di annunciare Che dopo 24 anni Di detenzione Negli Stati Uniti È stata appena firmata L'autorizzazione Al trasferimento in Italia Di Chico Forti Un risultato Frutto dell'impegno diplomatico Di questo governo Della collaborazione Con il governo Dello Stato della Florida E con il governo Federale Degli Stati Uniti Che ringrazio È un giorno di gioia Per Chico Per la sua famiglia E per tutti noi Lo avevamo promesso E lo abbiamo fatto E ora Aspettiamo in Italia Chico Oh regà Che possa piacere O meno La Meloni Lei Detto Fatto Cioè Il risultato Ce l'ha portato a casa Poi vediamo Cioè Nel senso Io Alla fine Finché non vedo Non credo Perché ormai Ce l'hanno promesso Talmente tante volte Che Sono sempre un po' titubante Ma sembra che Questa sia davvero La volta buona Perché Finora Chico Non era rientrato E cosa significa Che ci hanno illuso E che ci hanno raccontato Delle patacche Più e più volte Infatti Gli avvocati Familiari Ovviamente gli avvocati Che seguono i familiari Ma anche gli avvocati Che seguono Chico Hanno tentato Di riportarlo a casa Appellandosi A quanto previsto Dalla cosiddetta Convenzione Di Strasburgo Dell'83 Questa convenzione Consente Ad una persona Condannata In uno stato Diverso Da quello Di appartenenza Di scontare La pena Nel proprio Paese Quindi diciamo Di rientrare E scontare La pena Appunto A casa Ovviamente Con il vantaggio Di poter Ricevere Delle visite Dai familiari Che se sei Dall'altra parte Del mondo Diventa complesso A patto Però che Tenete ben a mente Questo La pena Sia identica Ma nel caso Di Chico C'era un elemento Critico In questo Perché la pena Inflitta Dal tribunale Statunitense È come vi dicevo Gastolo Senza condizionale Misura Che assolutamente Non è contemplata In Italia Del nostro codice Per questo Non era Fattibile Per questo Non si poteva Utilizzare La convenzione Di Strasburgo Perché per l'appunto L'Italia Non aveva Al suo interno Non ha Al suo interno L'ergastolo Senza Condizionale Quindi In Italia Ovviamente Chico Non avrebbe potuto Scontare La stessa Identica Pena Ok Questo è Il problema Del caso Chico Forti Perché Perché in Italia Il nostro codice Prevede Che Il condannato All'ergastolo Possa usufruire Della libertà Condizionale E anche Di altri Benefici Cosa che invece Chico Non ha potuto E non può Negli Stati Uniti Con la fine del 2020 È stato firmato Dal governatore Della Florida Ron De Santis Il trasferimento Di Chico In Italia E lì Era già diventata Vittoria Perché Il 23 dicembre Del 2020 Sicuramente Ve lo ricordate Io me lo ricordo Ancora Era stato annunciato Da parte Di Di Maio Poi anche Da Giuseppe Conte Il rimpatrio Come cosa data Come cosa certa Come cosa già ottenuta Tant'è che si sono messi A festeggiare A riempirsi Di complimenti Per aver finalmente Ottenuto Il rimpatrio Di Chico Forti Noi che non ci siamo mai Dimenticati Di lui Noi che Lottiamo Per la giustizia E infatti Di Maio Annunciava questa cosa Dal suo ufficio La Farnesina Dicendo È stato difficile Rattenere l'emozione Per liberare Chico Forti Poi dopo Si è auto Imbrodato Per il suo lavoro Diplomatico Allora Buonasera A tutti In questo Anno Veramente difficile Qualche buona notizia Stasera la notizia È che Il governatore Della Florida Ron De Santis Ha firmato L'atto con cui Accoglie la richiesta Di Chico Forti Per avvalersi Della convenzione Di Strasburgo E venire Qui in Italia È Un fatto Credetemi Che per il tempo Che ci abbiamo lavorato E la passione Che ci abbiamo messo È veramente importante È importante Prima di tutto Per Chico Per la sua famiglia La sua famiglia Che non ha mai mollato In tutti questi anni 20 anni di detenzione Una famiglia Che io ho incontrato Ho incontrato Lo zio Gianni Ho incontrato E ho parlato Anche con molti di loro Una famiglia Che non ha mai smesso Di tifare per Chico Di volergli bene Di stargli vicino E In queste ore Abbiamo ricevuto la notizia Un bel regalo di Natale Un bel regalo di Natale Per la famiglia Di Chico Per lui E anche per l'Italia Voglio dirvi Che è difficile È stato difficile Trattenere l'emozione La prima persona A cui l'ho detto Ovviamente È stato il Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Che ringrazio sempre Per il lavoro che fa Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte E poi l'ho detto Anche al Sottosegretario Riccardo Fraccaro Perché è di Trento Una persona con cui Abbiamo lavorato A questo obiettivo Allo zio Gianni Forti Che ha avvisato Il resto della famiglia E tutti gli altri Tutti voi A cui ho inviato Questa notizia Via post Lasciatemi dire Che cosa è successo Quest'anno Io sono arrivato Alla Farnesina A settembre Una delle prime visite Che ho fatto È stata proprio Negli Stati Uniti In realtà Il primo incontro Che ho fatto È stato con Mike Pompeo Qui in Italia Mike Pompeo È il segretario Di Stato americano Insieme ovviamente Al nostro ambasciatore In Italia Il nostro ambasciatore Italiano Negli Stati Uniti Scusatemi Che è Armando Varricchio E l'ambasciatore In Italia Negli Stati Uniti Che è Lewis Heisenberg E tutto questo È dovuto A un lavoro Sottoterra Che fanno Le nostre diplomazie E che facciamo Come Ministero Degli Esteri Buon Natale Buon 2021 A tutti Tenete duro Perché è un momento Difficile per tanti Ma forse Da oggi Un po' meno difficile Per Chico Che da vent'anni È in galera Negli Stati Uniti Ciao Tra l'altro Aveva anche pubblicato Un post su Facebook Con scritto Ho una bellissima notizia Da darvi Chico Forti Tornerà in Italia Tornerà in Italia Stiamo tenendo Il primo passo Per farlo tornare in Italia No Lui tornerà Punto Assodato Ma ragazzi All'epoca di Maio Ho fatto i conti Senza l'oste Perché mancava ancora Il consenso definitivo Del General Attorney Cioè L'autorità A cui spetta La decisione finale Sul caso Previo Assenso della Florida Ovvero Il governo Della Florida Aveva firmato Il consenso Ok Vi ridiamo Chico Forti Ma Il General Attorney Ancora no E loro già festeggiavano Solo che l'oste Non aveva ancora firmato Inoltre Non aveva fatto i conti Senza l'oste Quindi che succede? Passano i mesi Passano gli anni Chico non torna in Italia Se avete notato Nonostante la famiglia Scalpitasse Giustamente Si lamentava Perché Si sentivano presi in giro Gli organi di stampa Cercavano di parlarne Il meno possibile Cioè Quando c'è un flop Ovviamente No Abbiamo festeggiato questa cosa Perché questa cosa Non succede E vabbè Facciamo finta che Non sia mai stato detto Ce ne dimentichiamo Il pubblico Se ne dimenticherà Questa era un po' La speranza Dei media Anche del governo No? Ma la famiglia Continuava a protestare Perché questi documenti Per l'estradizione Non arrivavano mai Di Maio Non parla bene l'inglese Ha frainteso Scusate Un altro Ferragni È stato frainteso Vabbè Come posso dire che Cioè Io ve lo dico Me la Meloni Non è che Mi stia proprio Top simpatico Soprattutto perché Non sono assolutamente D'accordo Con certi suoi Cercetti Con certe sue Taglie Ecco Però Mi piace Vedere finalmente Un presidente Che va negli Stati Uniti E parla inglese Da sola Senza interprete Posso dire che è bello Mi piace anche Vedere Un presidente Che va negli Stati Uniti Di persona Porta avanti un caso E va direttamente A parlare col presidente E ottiene Quello che ha promesso Poi Tutto il resto Può Non piacere Giustamente Sappiate che qua Negli Stati Uniti Sono molto Scissi Sull'opinione Su Giorgia Meloni Però almeno La conoscono bene Cioè la conoscono bene In certi ambienti A grande successo Viene molto stimata In altri Meno Io e la politica Cioè proprio Mi potete raccontare Anche che Non lo so È salito Al governo Un vero drago E io ci posso Cioè io ci credo Sono totalmente Ignorante Poi vedo cose Le valuto Sento Americani che ne parlano Quindi so più o meno Cosa pensano Però adesso Non è il mio pane Le uniche dichiarazioni Provenienti dal governo In quel momento In quel periodo In cui C'era il limbo Del 2020 Festeggiamo tutti Perché Chico torna a casa Poi c'è il 2021 Non succede niente C'è il 2022 Non succede niente E qualcuno comincia A dire Toc toc Vogliamo rilasciare Qualche dichiarazione Magari al riguardo E il governo Nel frattempo Era cambiato Perché c'era Mario Draghi Che come ci dice La buona Cesare È davvero un drago Mi ha fatto morire Da ridere quel meme E ci sono state Diciamo soltanto Due dichiarazioni Piuttosto frettolose Da parte del governo Il ministro della giustizia Marta Cartabia Ha detto Solleciteremo Con vigore In tutte le sedi opportune Le stradizioni in Italia E di maio Nel 2022 Che dice Faremo di tutto Per far tornare Chico Forti In Italia Ma nessuno Che ha contestualizzato Il fallimento Cioè nessuno Perché siamo Sempre da quel pero Da quel melo In un paese Dove non esiste L'umiltà Di dire Scusate Mi sono sbagliato Cioè Ok Chiara Ferragni Ci posso anche Starci Che non lo faccia Chiara Ferragni Ma che non esista Un giornale Che rettifichi Una notizia Data sbagliata Ma fanno tutti Orecchie da mercante Un governo O un politico Che ammetta Di aver sbagliato Cioè Non è che Sono persone Fanno la cacca Scoreggiano Cioè Possono sbagliare Ed è così Liberatorio Dire Mi sono sbagliato Può capitare Farò del mio meglio Per Riparare Al danno Cioè Anche più Scialla Cioè Si vive meglio Mettendo i propri errori Si sta meglio Si è più Rilassati Secondo me Perché non c'è sempre La pretesa Di dover nascondere Sotto il tappeto Eventuali errori Per apparire Sempre perfetti Non so perché Questa live È finita più Politicamente Del solito Ma Veramente Mi astengo Ma ho guardato Il video di Breaking Italy L'ultimo Non so se adesso Ne è uscito un altro Nel frattempo Comunque l'ultimo Che ho visto Quello che parlava Delle dichiarazioni Di Zelensky Che tra l'altro Parla in inglese E il Corriere Nonché il TG1 Hanno Travisato Completamente Le sue parole Mettendo addirittura Dei sottotitoli Falsi Alle sue dichiarazioni Facendo credere Che Zelensky Avesse una lista nera Di italiani Che appoggiavano Putin Da far fuori dall'Italia Una roba del genere Che poi ha fatto indignare tutti No? Non è questo il punto Il punto è Come ha detto giustamente Anche caro Alessandro Che Che non c'è mai L'umiltà Di dire Ok Mi sono sbagliato Perché ci può stare Che uno capisca Fischi per fiaschi Durante Un'intervista Durante un intervento In un'altra lingua E che ci siano degli errori Nella traduzione E tutto il resto Magari anche nella fretta Di voler mettere Per primi fuori La notizia Ma nel momento in cui Tu metti in giro Una notizia Che poi si rivela Essere falsa Che fa indignare Tutto il paese Scatena delle reazioni Anche no? Parecchio importanti E incazzate Cioè Sta a te Dover redigere L'errore Dover fare In qualche modo Errata corregio Cioè Un gesto di umiltà Ci siamo sbagliati Anche se siamo Il corriere Anche se siamo Il TG1 Che tra l'altro Campa Delle nostre tasse Delle vostre tasse Cioè Non avere L'umiltà Di dire Ci siamo sbagliati Vi ho messo in giro Noi La fake news Effettivamente Era tutto falso E ci siamo sbagliati Di fare i sottotitoli Cioè Il corriere TG1 Non stiamo parlando De Non so Il giornalino Delle giovani Marmotte In realtà Nonostante queste Dichiarazioni Di Maio Anche nel 2022 Non si è mosso Assolutamente nulla Per far tornare A casa Chico Quindi a conti Vogon Stile Cioè Veramente Come i Vogon Ve lo leggo Direttamente Perché se Ve l'avessi dovuto Spiegare a parole mie Non sarei stata In grado Quindi Ve lo leggo Porti sarà Trasferito dal carcere Statale Vicino a Miami Nel quale Detenuto A uno federale La carcere statale Passa a carcere federale Il dipartimento Dei giustizia Americano Trasmetterà Al ministero Di giustizia Italiano La sentenza Tradotta Ma la devono ancora Tradurre E tutto il fascicolo Comunque da tradurre È un lavorone E la documentazione Prevista Che indica La possibilità Del trasferimento Di forti Il ministero Guidato da Nordio Girerà quindi La documentazione Alla corte d'appello Di Trento Che a sua volta Dovrà riconoscere La sentenza E metterla In esecuzione Chissà quante Quanti passaggi Quante volte Perderanno i fascicoli Quelli ritrovano Quelli seppelliscono Quelli disseppelliscono Poi prendono fuoco E arrivano in esecuzione Succede così In Italia Ma non solo in Italia Lo stesso forti Negli Stati Uniti Rappresentato Da un avvocato Dovrà comparire Di fronte A un magistrato federale Per confermare Il proprio Senso Al trasferimento Che giustamente Anche il suo consenso È necessario Cioè Chico Noi lo vogliamo tutti a casa Ma Chico Vuole tornare a casa Sì certo Lo sappiamo Che Chico Vuole tornare a casa Però C'è bisogno Di un'udienza Perché lui dica Sì Il famoso Sì Una volta conclusi Tutti questi passaggi Vorrà organizzato Il rientro in Italia Di Chico Forti Che dovrà scontare La pena Dell'ergastolo Nel rispetto Dei regolamenti Delle norme Italiani Quindi Se nel rispetto Dei regolamenti Delle norme Italiani Allora Si può parlare Di un'eventuale Libertà vigilata Però Bisogna vedere Quali sono gli accordi Che ha preso Giorgio Meloni Perché io so Che gli Stati Uniti Non gli va mica bene Sta roba qua Cioè Non sono per niente Contenti Del fatto che Si vada a violare Strasburgo E Un condannato Per omicidio Premeditato All'ergastolo Senza condizionale Poi Arrivi in Italia E abbia In qualche modo Uno sconto Comunque Sia una pena Minore Quindi Perché si parla Così tanto Di questa possibilità Di Chico In libertà vigilata O addirittura Ai domiciliari Che lo ha detto L'avvocato Della famiglia L'avvocato consulente Della famiglia Che si chiama Alexandro Tirelli Che ha Dichiarato questo Il beneficio Potrebbe scattare In virtù Della norma Che lo prevede Dopo 26 anni Dall'applicazione Dell'ergastolo E se il condannato Resipiscente Ha dimostrato Condotta Irreprensibile Quindi È una cosa Che dice L'avvocato Ora Non possiamo Dare per scontato Che succederà Vediamo Non è impossibile Secondo me Altamente improbabile Però Vediamo In ogni caso Vorrei soffermarmi Sulla parola Resipiscente Che secondo me È qualcuno Che è diventato Piscione Improvvisamente Per cui Condannato Resipiscente Vuol dire Che è qualcuno Che Non so Gli ha successo qualcosa La vescica È diventato Super piscione Altrimenti Non Non so trovare Altri significati Consapevole Del proprio errore Perciò Incline A ravvedersi Ma Vedi Impariamo cose nuove Con Bugalalla Adesso Vi devo parlare Del caso Di Macca Un caso Che mi ha Veramente Spezzata In due Non sarò Non sarò Molto Obiettiva Mi dispiace Ora Faccio una premessa La faccio prima Di entrare Nell'emotività Perché purtroppo Credo che perderò Completamente Di Di ragionevolezza Di diplomazia E di Equilibrio L'omicidio Non è Una Soluzione Non Bisogna Uccidere Le persone Bisogna Denunciare E cercare Di Tutelarsi In tutti I modi Che non Prevedano Violenza Ma Qualora La persona Arrivi Minacciare Concretamente La nostra Vita E quindi Siamo In una Situazione Momentanea Cioè In quel Preciso Momento Di vita O di morte Esiste Ovviamente La legittima Difesa Legittima Difesa Che però Ovviamente Deve essere Legittima Quindi uno Deve cercare Di fare Comunque Il meno Danno Possibile All'altra Persona Che ti sta Attaccando Quindi È corretto Dire che Si può Rispondere Violentemente Alla Violenza Quando Necessario Ma Deve essere Commisurata Al pericolo In quel Momento E questo Va detto Ed è Sacrosanto Ed è il motivo Per cui Macca Ovviamente Sarà Imputata In un Processo Tuttavia 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 Macca È Un'altra Saman Macca È una Saman Che Ha deciso Di non fare La fine Di Saman Ma Ha deciso Che questa volta Morire Sarebbe stato Suo padre E non lei E a me Questa storia Mi Spacca In due Perché Probabilmente Macca Se non avesse fatto Quello che Ha fatto Avrebbe fatto La fine Di Saman Pensare Una Saman Che anziché Sottostare E farsi Ingannare Da suo padre Da sua famiglia Avesse magari Adottato Un'autodifesa Di questo tipo Gli avrebbe reso Sicuramente Più felice Che Vederla Dimenticata Sottoterra Insomma Quindi Nono Nenga L'era Macca Il giudice È stato Veramente Umano E comprensivo In questa Fattispecie Quindi Era doveroso Farvi una premessa Perché Potrei Tendere Verso L'eroicità Di Macca E non è un eroe Perché ovviamente Gli eroi non uccidono Però Dentro di me C'è Una cheerleader Che sta Cantando E ballando Con i pompon Dicendo Vai Macca Grande Sì 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 E lo devo ammettere Perché Dobbiamo essere onesti Intellettualmente Devo essere sincera Con voi Ed è giusto Che io Vi dica Cosa sento E cosa penso Anche se Ho il dovere Comunque Di fare Premesse Costruttive In questo canale E se Se dobbiamo Incastrarci In una visione Dogmatica Del Sempre Dalla parte Delle vittime Allora io Voglio sentire Adesso Quelli che dicono Sempre Dalla parte Delle vittime Cosa Penserebbero Di questo Caso Visto che Qui Le vittime La vittima È un padre Violento Padre padrone Padre che Minacciava Di uccidere Moglia e figlia Sempre Dalla parte Delle vittime Anche perché Abbiamo visto Cosa succede Tante volte Quando si denuncia Ovvio Non bisogna Rinunciare In principio Nel senso Che Ragazze Io ve lo dico Sempre Ragazze E ragazzi E ragazzo Denunciate Denunciate Sempre 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 Non partite Scoraggiati Perché Là fuori Ci sono Davvero Degli inquirenti Che sanno Fare il loro Lavoro Ci sono Dei PM Che lavorano Col cuore O magari Sono quelli Che ci rimangono Più inculati Di tutti Perché non Si fanno Corrompere Perché non Scendono Compromessi E quindi Poverini Sono sempre Quelli che Se la pigliano In culo O sono Quelli che Vedete Suicidati Con le Pistole D'ordinanza Però Ci sono Nizza Monferrato Provincia Di Asti Siamo In un appartamento In via San Giovanni Dove nel Tardo pomeriggio Del venerdì Primo marzo Una diciottenne Macca Abbiamo solo Questa foto Di lei Perché Non aveva Il permesso Di usare I social Quindi questa Penso sia La sua foto Su whatsapp Macca Sulive È il suo Cognome Probabilmente L'ho pronunciato Malissimo Ma lo leggo Come si scrive Sulive Ha ucciso Per l'appunto Suo padre Ha Chiad Sulive Un uomo Di 50 anni E lei Lo ha preso A coltellate Fino alla morte Non possiamo Parlare effettivamente Di overkilling Ma le coltellate Erano più di una Ora Quando usciranno I risultati D'autopsia Magari sapremo Anche Fino a che punto È arrivata La sua Ira O la sua paura A dirsi voglia La famiglia Non è di origini italiane È una famiglia Di origini Cecene Quindi vengono Dalla Cecenia Sono immigrati In Italia In Piemonte Dal 2015 Grazie a dei percorsi Umanitari Macca frequentava Con ottimi risultati Il terzo anno Del liceo scientifico Tra l'altro Lei era bravissima A scuola Mai in insufficienza Niente E non solo Studiava E portava a casa Ottimi voti Ma al contempo Lavorava anche Come cameriera Per dare una mano In famiglia Anche la madre Natalia Fa la cameriera E suo padre Faceva il lavapiatti Ma pare Che Avesse perso Il lavoro Proprio Il giorno in cui Ha perso Anche la vita E tutti e tre Lavoravano in questo Ristorante Che si chiama La signora In rosso Macca È la primogenita Quindi è la più grande Dei figli Dei suoi genitori E ci sono altri Tre fratelli Più piccoli Due maschi Di undici E dodici anni E una femmina Di quattordici anni Quindi sono quattro figli Contrariamente al padre Che non era mai riuscito A integrarsi bene In Italia Non parlava bene La lingua E tutto I figli E la mamma Erano invece Bene integrati Soprattutto parlavano bene L'italiano Tutti i ragazzini Andavano a scuola Ed erano in pari Con gli studi Quindi non avevano Problemi con la lingua Macca viene descritta Come una ragazzina Carina Sempre gentile Posata Aveva questi Ah Questi Bellissimi Occhi blu Come potete Intravedere Da questa sua foto Su whatsapp Si vede che è molto bella E come potete vedere appunto Lei indossa sempre L'ijab Imposto Dalla religione Del padre Dicono di lei I suoi compagni E' allegra Spiritosa Generosa Con tutti Sempre disponibile Sempre pronta A dare una mano A chi è in difficoltà Quindi E' stato un fulmine Accensereno Anche per i suoi compagni Di classe Che ovviamente Non conoscevano La sua Situazione familiare Soltanto la sua Unica amica Sapeva quello che lei Stava vivendo E quindi I compagni di classe Essendo abituati A vederla Per l'appunto Come Una patatina Dolce Sapere che ha Ucciso il padre A coltellate E li ha un attimo Frastornati Per cui L'istituto Ha anche provveduto A garantire Un'assistenza Psicologica Per tutti I compagni di classe Per tutti Insomma Gli studenti I carabinieri Sono stati allertati Dai vicini di casa Perché Appunto Si erano un attimo Preoccupati Per il trambusto E le grida Che provenivano Da quell'appartamento Che solitamente Era molto silenzioso E Il punto Dove sta Nel movente Perché Dopo ore Di interrogatorio Macca Finalmente Ha tirato fuori La verità Perché lei Non voleva Dire il movente Lei non ha mai Nascosto Di aver Ucciso lei Il padre Cioè Si è subito Assunta Le sue responsabilità Ma Non voleva Dire perché E questo È interessante Perché poi Come Già vi ho anticipato Non c'erano mai State Da parte delle denunce Né da parte Di Macca Né da parte Di sua madre Nei confronti Delle violenze Del padre Il fatto Che Anche Davanti A fatto compiuto L'unica cosa Che potrebbe In qualche modo Giustificare Il tuo gesto È per l'appunto Un movente Valido Lei non lo voleva Fornire Questo movente Non lo voleva Dire Quindi c'era Probabilmente In lei Una resistenza Nell'ammettere Nel denunciare Quello che Queste donne Subivano In casa O si vergognava O sentiva Come tante volte Accade alle vittime Di meritarselo O in qualche modo Di esserselo Andato a cercare Quindi Credo che questo Sia il vero motivo Per cui Non hanno mai Denunciato Perché come vi dicevo All'inizio Non lo voleva dire Ma dopo Un'intera notte Di interruttori Finalmente Ha tirato fuori La verità E ha descritto Suo padre Come un padre Padrone Che aveva il controllo Su ogni movimento Ogni scelta Ogni minima Libertà Delle due Diciamo Donne di casa Cioè La mamma E lei Lei perché Poi era diventata Maggiorenne C'era Voi direte Eh ma ce n'è anche Un'altra di ragazza Che aveva 14 anni In casa Sì ma Non era Maggiorenne Macca voleva fare Le sue cose Da maggiorenne E non gli era Assolutamente Permesso Ogni sua Frequentazione Doveva essere Monitorata Dal padre Per la maggior parte Gli venivano vietate Non poteva avere Nessun tipo Di indipendenza Nonostante Lavorasse Sia lei Che la madre Non potevano Assolutamente Utilizzare I propri Stipendi Per loro stesse O per quello Che desideravano Gli veniva ritirato Tutto lo stipendio E veniva usato Solamente Dal padre Per i suoi porci Comodi E quando dico Porci Intendo veramente Porci Poi capirete E insomma Un controllore Controllante Che non sopportava L'idea Che la moglie E la figlia Potessero avere Anche solo Un minimo Di indipendenza Questa Questa parola A lui Lo triggerava Indipendenza Le donne Non possono Avere indipendenza Né libertà Di scelta Quindi Nel momento In cui Queste Due donne In questo caso Una ragazza E sua madre Si impuntavano Per avere Per l'appunto Un po' Di indipendenza Ecco che lui Ricorreva Alle violenze Fisiche Finché Non erano costrette Per l'appunto A sottostare E rinunciarvi Vi leggo Il racconto Di Macca Venerdì Papà Aveva lasciato Per l'ennesima volta Il lavoro Che lui Si era licenziato Cioè lui Aveva sclerato Sul posto di lavoro Aveva lanciato La spugna Faceva il lavapiatti Quindi mi immagino Proprio che Abbia Non si dice Lanciato la spugna Gettato la spugna L'abbia proprio gettata Stanno un lavoro Più qui Quindi Ha mollato Questo lavoro Poi continua Macca Un po' È andato Al ristorante Dove io E mamma Lavoriamo E ha chiesto Anche a lei Di licenziarsi Lei Gli ha chiesto Ma come facciamo Con i soldi Come andiamo avanti Ma lui Non voleva sentire Ragioni La prima lite È scoppiata In quel momento Poi mamma Lo ha mandato via Quindi Lui si licenzia E pretende A questo punto Che anche la moglie Si licenzi Perché non può Sopportare lo smacco Che la moglie Abbia un lavoro E lui no Ovviamente Quindi Lui si presenta Sul posto di lavoro Della moglie E la vuole Obbligare A mollare Lì Il lavoro E lei Gli dice No Poi come andiamo avanti Come manteniamo I nostri figli Scusami Cioè Ti sei appena licenziato Tu Se mi licenzio Anch'io Che facciamo Andiamo sotto i ponti Giustamente No Tra l'altro Tutti i soldi Che guadagnava lei Li gestiva lui Quindi Voglio dire È anche poco sensata Questa cosa Mamma Lo ha mandato via Racconta Macca Poi Arrivato a casa Il litigio È continuato Quando papà È tornato a casa Ha aggredito mamma Le ha messo Le mani al collo Non le ha nemmeno Dato il tempo Di svestirsi Papà Ci ha sempre Picchiate In Cecenia Quando ero più piccola Era anche peggio Ha sempre praticato Arti marziali Box E karate Se la prendeva Soprattutto con noi E sapeva dove colpire Per fare in modo Che i lividi Non si vedessero È anche vero Che Obbligava queste donne A indossare Li jab Quindi Le parti coperte Erano Molte di più Rispetto al normale Colpiva I miei fratelli Solo se si mettevano In mezzo All'eliti Perché ovviamente Maschietti Quindi Maschietti Non si picchiano A meno che Non osino Difendere le donne E allora lì Si picchiano Quella sera Picchiava mia madre Ho cercato di dividerli Poi lei qui dice che Aveva chiesto Suo padre Di smettere Babbo basta Babbo smettila Ti prego Lasciala Perché lui continuava A stringere le mani Intorno al collo Della madre E la madre Stava cambiando colore E stava perdendo i sensi E quindi Maschietti Ha capito Che se non fosse Intervenuta materialmente In quel momento La madre sarebbe stata Uccisa Nella classica Dinamica Femminicida Al che cosa Ha fatto Maschietti È corsa in cucina Ha preso il coltello Da cucina Ha chiesto Nuovamente al padre Di fermarsi Perché sua madre Stava morendo Lui non l'ha scottata E lei gli ha dato Una pugnalata Nella schiena Gli ha dato Una pugnalata Nella schiena Poi gliene ha data Un'altra Lui ha mollato La presa Al collo Della madre E ha cominciato A prendere Pugni Macca Che poi Gli ha dato Un'altra contellata Nello stomaco Che è stata Quella fatale Quindi si è Autodifesa In quel momento Diciamo Sì ci sono le prove D'abba Ci sono i segni Sul corpo Delle due donne Ci sono i messaggi Diciamo che questa Versione di Macca Non può essere considerata Un'invenzione Perché ci sono molti testimoni Che hanno confermato La sua Versione Natalia stessa La madre Conferma la sua Versione Anche perché Quando arrivano I vicini Di casa Che saranno i primi Ad intervenire Per soccorrere Per soccorrere Appunto Natalia Che era Ferita Cioè comunque Faceva fatica A respirare Era stata appena Strangolata Non era una passeggiata E con un filo di voce L'unica cosa che è riuscita a dire Natalia ai vicini È stato Se non ci fosse stata lei Lui mi avrebbe ucciso Se non ci fosse stata lei Lui mi avrebbe ucciso Mi ha salvato Mi ha salvata Mi ha salvato E chiaramente Macca è stata trovata Appoggiata Alla parete Del corridoio Perché lui è stato ucciso Poi È morto In corridoio È stata trovata Appoggiata Alla parete In Stato di shock E Non ha mai negato La sua responsabilità Più che legittima difesa Dite voi Sì Certo che Con due coltellate Alla schiena In qualche modo Se Macca fosse scappata Probabilmente lui Non sarebbe stato in grado Di picchiarla ulteriormente E magari In quel caso L'avrebbe ferito gravemente Non ucciso E poi si sarebbe proceduto Comunque Alla tutela Di queste donne Certo è che Tenerlo vivo Uno così Qui parte La mia ignoranza Tenerlo vivo Uno così Te lo auguro Cioè Non te lo auguro Perché dopo che L'hai accoltellato Due volte L'unica cosa Che penserà Per tutto il resto Dei suoi giorni Sarà come Fatela pagare Esatto Così l'ammazza dopo Cioè Sono di quei soggetti Che Anche nel momento In cui i denunci Li prendono Ma comunque Prima o poi Escono Prima o poi Riescono A raggiungerti Ed è quella La cosa pericolosa O Ti tutelano Al cento per cento Nel senso che Ti fanno Spostare Ti fanno Andare a vivere Lontano Sotto un'altra identità E questo qui Non sarà mai più in grado Di sapere Come trovarti Col cuore ragazzi Col cuore Sta col cervello Minchia Si è fatto bene Vai macca Sei tutte noi Vaffanculo Grande macca Vai macca Vai macca Scusate Però Cioè Veramente Io questi casi Non ce la faccio Non ce la faccio Essere obiettiva Come non ce la faccio Nel caso di Alex Cottoia Ex Alex Pompa Cioè Lui ha tutta la mia solidarietà Tra l'altro È un ragazzo Super gentile Mi ha anche scritto Dei messaggi Ogni tanto ci scambiamo Qualche messaggio Mi risponde sempre Super carino Che Se vi ricordate È il ragazzo Che Ha ucciso Suo padre All'ennesima Denuncia All'ennesima Volta Che i carabinieri Intervenivano E poi gli dicevano Sei buonino Mi raccomando Non facevano niente Alla fine Alex Ha rotto il cazzo Ha preso il coltello Anzi ne ha presi sei E è andato un po' In overkilling Diciamo È un po' esploso Alex Ecco Però io Questi casi qui Ragazzi Cioè non ce la faccio Sono Per me le vittime Sono gli assassini In questo caso Per me c'è un Completo stravolgimento Delle Definizioni Alex E Alex E Macca Sono assassini Ma sono le vittime Per questo vi dico sempre Denunciate Anche per Una tutela Nel momento in cui Magari voi Passate dalla parte Del torto Anche non così esageratamente Anche non così esageratamente Però Io regà Qui Alzo le mani Divento ignurante E vi dico Ha fatto bene Ha fatto bene Caccia Cioè Magari Magari Dopo questa storia Ci sono degli altri padri Padroni Che ascoltano questa vicenda Guardano negli occhi L'odio Che le figlie Provano nei loro confronti E magari si fanno due domande Non perché mettano in discussione La loro visione Ma perché magari Cominciano ad avere un po' di paura E sarebbe ora Che cominciassero ad avere Un po' di paura Questi stronzi L'avvocato che difende Macca Che si chiama Massimiliano Svolcini Ha detto Macca e sua madre Non lo hanno mai denunciato A lungo hanno subito Senza dire nulla Ma lei Ha raccontato Tutto All'unica amica Che aveva E che ora Dovrà essere sentita Non sopportava più Che la madre Subisse quelle violenze Lui era molto religioso Seguiva i precetti Della religione musulmana Alla lettera Ma Macca Invece aveva Una visione più aperta Sulla figura della donna Voleva che le donne Venissero rispettate Non accettava le violenze Vai Macca Ha raccontato Di subire Soprusi da anni Era sconvolta Ha vissuto La giornata più faticosa Della sua vita E ci credo E ci credo Come vi dicevo Le prime indagini Confermano Quanto raccontato Da Macca E sua madre Natalia L'omicidio È effettivamente Avvenuto dopo Reiterate violenze Familiari Confermate Agli investigatori Da diversi Testimoni E anche prove Raccolte Come i segni Sul corpo Delle due donne Inoltre Sono stati trovati Chat E conversazioni Del padre Che minacciava Queste due Le due Queste due Sua moglie E sua figlia Con frasi come Quando torni Ti ammazzo Quindi minacce Di morte Assolutamente Comprovate Per cui Inoltre Come vi dicevo Prima È emerso Che il padre Portasse via Tutti i soldi Guadagnati Per ovviamente Impedire Loro Di avere Una qualsiasi Indipendenza E se li teneva Per sé E li spendeva Come vi dicevo Per i suoi Porci comodi E cosa intendo Per porci comodi Intendo Che lo stronzone Aveva sempre Bisogno di soldi Non gli bastavano Mai questi soldi Perché? Perché doveva Mantenere La sua seconda Famiglia In Cecenia Avete sentito bene Lui aveva Un'altra donna Un'altra famiglia In Cecenia E con i soldi Che portavano a casa La figlia E la moglie Lui manteneva L'altra famiglia Ma non solo Ragazzi Non solo Perché Era un assiduo Frequentatore Di signorine Della notte E Ma in maniera Piuttosto Ninfomane Utilizzava I soldi Guadagnati Con la fatica Il sudore Di moglie e figlia Per andare A frutturne Cioè No raga No raga Non abbiamo perso Niente Mi dispiace Solo per Macca Che ha perso In parte La sua libertà E Mi auguro Che Facciano Un'udienza Il prima possibile E le dicano Vai Macca Assolta Basta Non ti vogliamo Più vedere Ma io spero Veramente Sarebbe tipo Un sogno Se adesso Facessero i conti Degli stipendi Per essere il denaro Madre e figlia E il problema Che lui li ha spesi Quindi Chi glieli dà Sti soldi Memoria del padre Non mangiavo il magliale Perché sono un gran porco E poi sarei stato Un cannibale Mi sembra Sì Mi sembra sì Io ragazzi Mi prenderò Un sacco di insulti Credo qua sotto Nei commenti di youtube Mi dispiace Perché avete ragione A insultarmi Perché solitamente Io cerco sempre Di portarvi alla ragione Alla giustizia E un omicidio Resta pur sempre Un omicidio Anche quando il movente È super valido Un omicidio Un omicidio È tolto la vita Una persona Quindi giustamente Devi sottoporti Alla legge Anche perché Sarebbe un pessimo esempio Cioè se davvero Lei venisse Assolta così Ancora prima Di fare un processo Sarebbe un pessimo esempio Perché in questo modo Daresti la licenza Di uccidere A seconda del movente E questo non può essere Assolutamente Passabile Nel nostro paese Non è assolutamente Tolerabile In un paese democratico Quindi No Ma ci sono queste eccezioni Per cui io non riesco A essere lucida Rega mi dovete perdonare Non riesco a essere lucida Lunedì C'è stata La Udienza di convalida Dove Il PM Voleva assolutamente Mandarla in carcere Io Mi chiedo se Non lo so Cioè tipo Sono lì apposta Per fare gli stronzi O Se sono Non so perché I PM Devevo sempre Avevano anche il loro ruolo Effettivamente andare contro E difendere la vittima Che in questo caso È il padre Però in un caso Del genere Il carcere Insomma Fortunatamente Il GIP Ci ha tenuto Ad andare a fondo Nella vicenda E quindi Ha tenuto Questa udienza Per quattro ore È una cosa Veramente anomala Nel senso che Di solito Il GIP Sì Ti fa un interrogatorio Però Quattro ore Insomma È lunga Quindi ha voluto andare Davvero molto a fondo Nella vicenda D'ascoltare bene Macca E non ha assolutamente Accolto la richiesta Del PM Anzi Ha deciso Decretato Che Macca Potrà restare Ai domiciliari In comunità Protetta Tutelando Tutelando così Il più grande interesse Della ragazzina Ovvero Continuare a studiare Perché lei L'unica cosa Che voleva E che chiedeva Era Continuare a studiare Costruirsi un futuro Per un giorno Avere la sua indipendenza E costruirsi Appunto Una carriera Grande Macca Grande Macca E ce l'ha fatta Ce l'ha fatta E Giudice Le ha detto Guarda Devi stare ovviamente In comunità Devi essere seguita Dalle psicologhe Come giusto che sia Però potrai Continuare a studiare Grande Grande C'è tutta la scuola Che ovviamente È felicissima Di sapere Che lei potrà Continuare gli studi Anche la preside Insomma Sei detta davvero Soddisfatta Di questa scelta Del GIP Bella GIP Dai Ogni tanto La giustizia in Italia Mi dà delle soddisfazioni Ora Unica cosa Un po' triste Che chiaramente Lei si trova Separata dalla madre Dai fratellini In comunità Penso che possa incontrarli Ma solo Visite Diciamo A tempo Non può Vivere con loro Però Almeno Non è In un carcere Non è chiusa Tra quattro mura È ai domiciliari Quindi comunque C'è una sorta Di libertà Di movimento Ovviamente Tutto Controllatissimo Tra l'altro Anche Natalia La mamma La prima cosa Che ha detto È stata Io voglio tornare A lavorare Voglio tornare Immediatamente A lavorare Perché finalmente I miei soldi Mi li potrò Tenere Eh Cazzo E quindi Natalia Penso che Se non ha già Ricominciato A lavorare È una questione Di giorni PM deve fare Un po' E basta In contrario Rispetto All'imputata E cercare Di mettere In difficoltà Deve fare L'accusa Non può fare La difesa Deve fare L'accusa Quindi anche Un po' Il suo ruolo Poi dipende Anche con quale Tenacia Ha portato avanti Questa sua richiesta Di vederla in carcere O se è stata Una Come dire Una mossa Obbligata Cioè Signor giudice Devo chiedere Il carcere Per rischio Di fuga C'è modo Di dirlo Devo chiedere Oppure Se è proprio Un cazzoso Come alcuni Una formalità Sì Come alcuni Che invece Li vedi Che proprio Sono accaniti Che vogliano vedere L'imputato rovinato I costi Anche quando Sanno benissimo In quel loro Che non è giusto Io lì non c'ero Non so In che modo È stata fatta Questa Questa richiesta Però Fortunatamente È andata a finire bene Siamo avanti Raga Dobbiamo parlare Del caso Di Andrea Bossi Che è rimasto Per un mese Un giallo In realtà È rimasto Per noi Umili Babbani Che seguiamo Le notizie Un giallo Ma gli inquirenti Erano già Sulla buona strada Mi sono piaciuti Molto Perché Questa volta Non hanno ceduto Alle pressioni Giornalistiche Hanno mantenuto Il loro segreto Il loro segreto Di indagine Sono andati avanti Per la loro strada Nonostante avessero Degli indizi Senza Far trapelare nulla Ai giornalisti E Ci hanno detto Tutto nei dettagli Una volta arrestati I sospetti Quindi Bravi Io vorrei vedere Più inquirenti Che lavorano così E non cedono Alle pressioni Dei giornalisti E non fanno girare I pizzini Con informatori All'interno Degli inquirenti Che Passano le informazioni Sotto banco Ai giornalisti E poi ci ritroviamo Con le fake news E tutto il resto E le indagini Floppate A causa Dei giornalisti Come È successo Nel caso Di Liliana Che quando è stato Ritrovato Il corpo Si aveva più fretta Da parte degli inquirenti Di riconoscere Liliana Per poter dare Una risposta Ai giornalisti Piuttosto che Tutelare Una scena Del crimine Che purtroppo È stata Ampiamente Compromessa E ha inficiato Poi le successive Indagini Ora Però Dobbiamo parlare Di un altro caso Ovvero Il nostro Andrea Bossi Andrea Vi faccio Un breve recap Della sua storia Sono felice Di aver trovato Anche una foto Del suo pitbull Che poverino Ha visto tutto Lui ha assistito All'omicidio Impotente Perché è chiuso Poverino Fuori dal balcone Ma abbagliava Come un pazzo E ha assistito All'aggressione Del suo padroncino Senza poterlo difendere Sapete bene Che i pitbull Sono una razza Che ti ama All'infinito E si butterebbero Nel fuoco Per difendere Il proprio padrone Guardate che occhioncioni Che ha questo cane Meraviglioso E veramente Gli mancava Solo la parola E lui aveva visto Tutto Lui poteva Ricostruire L'omicidio Ma poverini Gli animali Gli manca Veramente solo la parola Finalmente C'è stata Una svolta C'è stata Diciamo La soluzione Di questo giallo Anche se ci sono ancora Dei punti Oscuri Parliamo di questo Ragazzo Giovane Di 26 anni Ucciso Con una sola Coltellata Nella sua casa A un monolocale Di Cairate In provincia di Varese L'omicidio Avviene Nella notte Tra venerdì 26 E sabato 27 Gennaio A trovare il corpo Vi faccio un breve recap Di quello che Sapevamo Fino a pochi giorni fa E poi vi do No Le novità Recap Il padre Ha trovato il corpo Il mattino dopo Perché non riusciva A mettersi in contatto Con il figlio E quindi è andato A cercarlo A casa sua Tra l'altro Era andato a vivere Da solo Soltutto Da sei mesi Andrea Con il suo Cagnolone Lo ha ritrovato In un lago di sangue Con la gola squarciata Da questa Appunto Unica Coltellata Mortale E Non si capiva All'inizio Che potesse Avercela con lui Perché appunto Andrea viene descritto Come un ragazzo Estremamente tranquillo Che lavorava Come operaio Metalmeccanico E occupava Il suo tempo libero Come animatore All'oratorio Dicono che appunto Non avesse nemici Che era super gentile Si dedicava Anche al volontariato Era puntuale Dirigente sul lavoro Non litigava Mai con nessuno Le piste investigative Si sono concentrate Fin da subito Sui monili D'oro Che Andrea Possedeva E collezionava Per passione In particolare Gli anelli Lui era Un amatore Degli ori In generale Di tutto ciò Che era Gioiello D'oro Perché per l'appunto Aveva studiato Come orafo E l'oro Era una delle sue Appunto Passioni E non Non nascondeva I suoi monili Andava sempre in giro Con questi anelli Molto vistosi Anche in casa Teneva in bella vista Altri monili Quindi Chiunque Entrasse in casa sua Poteva appunto Rendersi conto Che c'erano Ragazzi Non ci limitiamo A una rapina Perché qui ci sono Effettivamente Delle dinamiche Molto più Complesse E sottili E parliamo Di killer Veramente Giovanissimi Tra l'altro Spero che ci sia ancora Se non ricordo male Si chiamava Marty La ragazza Che era Amica Di uno dei due Killer Quindi comunque Uno dei due Lo conosceva bene Ieri No ieri Ieri l'altro Era presente In live Non so se Ci sei ancora Marty Se ci sei Batti un colpo Altrimenti Nel caso De Io ti aspetto Nei commenti Sotto youtube Così mi puoi un po' Descrivere Anche come era Questo tuo amico Tutto quello Che non emerge Dalle fonti pubbliche Sicuramente Ci puoi dare una mano A comprendere meglio Il contesto Ora Gli indizi Sulla scena Facevano subito Pensare Che vittima E killer Si conoscessero Perché non c'erano Segni di effrazione Quindi con ogni probabilità Andrea Ha fatto entrare In casa I suoi killer E tra l'altro Lui è stato trovato Con Dosso Il suo pigiama Lui Come pigiama Utilizzava Dei pantaloni Della tuta Una maglietta Aveva anche Le ciabatte Da casa Quindi Gli inquirenti Hanno dedotto Che L'invitato Gli invitati Abbiamo scoperto Che sono due Erano anche Invitati A passare la notte Lì A dormire lì E se Ricordate Io In maniera Estremamente maleducata Avevo fatto Outing alla vittima Perché Avevo detto Guardate Secondo me È possibile Che Che Magari Avesse Una relazione Omosessuale Con il suo Killer E voi Mi avete detto Ma no Ma non è vero Guardate che Tante volte I ragazzi Restano a dormire Una casa dell'altro Ma non per forza C'è una relazione Si fa anche Tra amici Certo Avete ragione Ma ne avevo più io Dall'analisi Del crimine L'omicidio Sembrava Un omicidio D'impeto Quindi Fatto In assenza Di premeditazione Perché Per ucciderlo È stato utilizzato Un coltello Da cucina Quindi Un oggetto Trovato lì Nel qui e ora Nell'allora Là Però Avete capito Il senso E che poi Il killer Ha portato via Con sé Finalmente C'è la soluzione Del giallo E sappiamo Chi sono I due ragazzi Ad aver ucciso Il povero Andrea Infatti Per l'omicidio Di questo ragazzo Il 28 di febbraio Sono stati arrestati Due Giovanissimi Killer Douglas Carolo Che è Il biondo 21 anni Di origini Brasiliane E Michele Caglioni 20 anni Lui invece È italianissimo Ed è quello Appunto Moro Tra l'altro Beccati Perché avevano con sé Ancora parte Della refurtiva Tra l'altro Vi avverto Sono Due Killer Veramente Stupidi Hanno fatto Degli errori Da Principiantissimi E ci sta anche Nella ricostruzione Poi Del delitto Ovvero Non c'era una premeditazione Quando non c'è premeditazione È un omicidio Disorganizzato Il più delle volte E questi La faccia Della disorganizzazione Cioè Passano anche dal Oltre a essere disorganizzati Sono pure Deficienti Cioè Diciamocelo Per Deficienti Secondo gli inquirenti I due killer Infatti avrebbero Premeditato Il furto Quindi La sottrazione Dei gioielli Ad Andrea Ma non l'omicidio Che è avvenuto Proprio perché Andrea Li avrebbe sorpresi Nel momento In cui lo derubavano Ma questi due Hanno compiuto Degli errori Estremamente Grossolani Questi due killer Presunti Killer Bisogna dire Finché non c'è Una sentenza Giustamente Hanno una residenza Ufficiale In zona Quindi Insomma Facevano parte Del contesto Insieme ai gioielli Avevano anche rubato La carta di credito Di Andrea E l'hanno utilizzata Per prelevare Contanti E fare pagamenti Quindi Cioè Genio Genio Usi la La carta della vittima Sei proprio Deficiente Poi Cena del crimine Piena di tracce Impronte Ovunque Perché hanno avuto Così tanta fretta Di scappare Dalla scena Probabilmente anche Traumatizzati In quel momento Da quello che avevano Appena fatto Che si sono Dimenticati Di ripulire Le loro impronte Che si trovavano Appunto Ovunque C'erano Sulle pareti Sul pavimento Sul Ballatoio Sulle scale Insomma Dappertutto Impronte Digitali E impronte Di scarpe Sarebbe bastato Loro dare Una pulita Alla scena Del crimine E Molto probabilmente Gli inquirenti Sarebbero ancora là A brancolare Nel buio Ma no Perché poi hanno fatto Altre minchiate Quindi avrebbero presi Comunque Però Non hanno ripulito Niente Tra l'altro Uno dei due Aveva un precedente Per cui era già stato Condannato Quindi chiaramente Era schedato E quindi le impronte Digitali Hanno subito Fatto match E hanno beccato Chi era Ma Non è bastato Questo Mi è piaciuto Un pasino Come hanno volato Questi inquirenti Bravi Mi sono piaciuti Perché hanno proceduto All'arresto Dei due Non limitandosi Ad una prova Avevano l'impronta Digitale Che corrispondeva A Vedremo Lui A Douglas Avevano le immagini Delle telecamere Avevano Tante Cioè Avevano tante Tante prove Ma hanno voluto Raccoglierle tutte Con calma Per essere sicuri 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 E avere un impianto Accusatorio Infrangibile Poi Li hanno arrestati Ovviamente Tenendoli d'occhio Nel frattempo Perché non Spassero Chiaramente Ma Avevano verificato Che rimanevano lì Secondo me Sono innocenti Dici Ok Stal di te Sì Sono un po' Scemo più scemo C'è da dire Non sono i killer Più astuti Dentro il cassetto Più da cassonetto Certo I famosi killer Del cassetto C'è chi ha i sogni Nel cassetto C'è chi ha i killer Nel cassetto C'è una questione Di gusti Dipende Erano troppe Per questo Ci hanno messo Tanto Beh Sapete Tante volte Agli inquirenti Basta una prova Ti arrestano E poi dopo Verificano le altre Con comodo Perché intanto Ovviamente C'è la fretta Di chiudere il caso In fretta e furia Prendere immediatamente L'assassino Per fare bella figura Ah Velocemente In 48 ore Hanno risolto Il giallo Stile L'hanno risolto Sicuramente In 48 72 ore Ma hanno preferito Fare un lavoro Fatto bene Piuttosto che Sborare contro i muri Quindi Mi siete piaciuti Ragazzi Venti Inoltre Oltre tutto questo C'erano anche Le chat Nel cellulare Di Andrea Dove Tra l'altro Emerge Questo rapporto Sentimentale Con Douglas Con lui C'era l'inciuccio E Oltre Altre prove Informatiche Cioè Nella serie Abbiamo ovviamente Non lo so Pescate nel mucchio Trovate una prova Contro di loro I due killer Ovviamente Sono stati messi Sotto intercettazione Durante tutto il mese Di indagini E Sono stati Beccati Intercettati A parlare Tra di loro Al cellulare Dell'omicidio Allora Raga Ma io vi devo dire Tutto Se compite Un omicidio Non ne parlate Al cellulare Con il vostro Complice Le basi Cazzo Le basi E poi Se hai un appuntamento Quella sera Con Quella che poi Diventerà la tua vittima Devi assolutamente Eliminare Tutte le prove Di quell'appuntamento Cosa che ovviamente Non è stata fatta No è chiaro Che non mi seguivano Questi qui Perderanno tempo Sul tiktok Te lo dico io Che Queste nuove generazioni Non hanno tempo Di ascoltare Bugalalla Perché parla troppo Devo fare le basi Short Per tiktok Secondo me Questa nuova generazione Ha bisogno Di un po' di usta Sto scherzando Sto scherzando Ovviamente Sto Sto scherzando Aspettate che C'ho il banner Qua Che è fondamentale Altrimenti La gente Non capisce Ok Scherzone Beh Ma andiamo avanti Ah Poi Dato che non avevano Lasciato abbastanza prove Hanno tentato Di vendere Parte della refurtiva In un ingozio Comprooro Sono riusciti In parte A liberarsene Ma In altra parte Non sono riusciti A dimostrare La provenienza Di questi ori E il comprooro Gli ha guardati Dico Sai che c'è Quasi Quasi ti chiamano La polizia E hanno fatto bene Si sono messi Poi alla ricerca Di ricettatori Per piazzare Il resto Della merce rubata Lo hanno fatto Nella maniera Più stupida Possibile Cioè In maniera Mega sguaiata Senza alcuna Precauzione Hanno domandato In giro A I vari Valordi Di strada Spacciatori Insomma Quelli che per loro Erano Delinquenti Di strada Hanno chiesto Ma Conosci un ricettatore Che vorrebbe comprare Della merce rubata Ma Conosci Oh ma Ricettatori Ricettatori Certo sì Ricettatori Merce rubata Io non ce la posso Io non ce la posso Io non ce la posso Veramente Fare Allora In tutto questo Hanno ignorato Due fattori Molto importanti Uno Neanche un ricettatore Avrebbe comprato Merce Insanguinata È rarissimo Trovare Ricettatori Che accettano Di comprare Merce Laddove c'è stato Un omicidio Due I balordi Di strada I cosiddetti Delinquentelli Di strada Sono una delle principali Fonti informative Delle forze Dell'ordine E quindi sono andati Immediatamente A dirlo Alle forze Dell'ordine Che Secondo me Si stavano divertendo Tantissimo A vedere Che cosa avrebbero fatto No Tipo No ma aspetta Non li arrestiamo ancora Arrestiamo ancora un po' Dio che si affanno Fanno un'altra cagata Siamo se la ridevano Ma In ultimo Ovviamente Sono comparsi Nei filmati Delle telecamere Di videosorveglianza In orari Perfettamente compatibili Con il Il delitto E la loro presenza Dentro casa di Andrea Quindi Probabilmente I due Pensavano Appunto Di Fare Insomma Questo Questo So ritrovo Far bere Parecchio Andrea Farlo fumare Diciamo Più di loro Per in qualche modo Stordirlo Farlo dormire Pesantemente In modo tale Da avere campo libero Per raffare Gli ori Perché loro Hanno rubato Anelli Bracciali In oro E denaro Contante Oltre ovviamente Alla carta Di credito Quindi Sicuramente Avevano Premeditato Di compiere La rapina Ma Non era previsto Poi L'omicidio E avevano Anche Premeditato Di farlo Appunto Mentre lui Si sarebbe Addormentato Ma Andrea Nonostante Aveva bevuto Parecchio E aveva fumato Inciabatte Tutta maglietta Che era Sua Mies Da pigiama Si è svegliato E gli ha sorpresi In flagranza E quindi Per evitare Che urlasse E chiamasse Le forze Dell'ordine Uno dei due Che ancora Bisogna capire Chi dei due Lo ha colpito Con un primo Strumento Disponibile A portata Di mano Che era Per l'appunto Il posacenere Poi Bisogna vedere Se è sempre Lo stesso ragazzo O quell'altro Preso il coltello Da cucina E l'ha colpito Al collo Recidendogli La giugulare Quindi Diciamo Per il povero Andrea È stata una morte Piuttosto Veloce I killer Facciamo un po' Di profilo Di questi Due Stronzi I killer Sono i cosiddetti Belli e maledetti Perché Diciamo Su TikTok Queste faccine Qui Funzionano bene Insomma Sono Bellini A quanto pare Che ripiacciono Mi piacciono Io non Non so Mi Sembrano troppo Piccoli Per dare un giudizio Non riesco Mi sento quasi In colpa Non lo so Non riesco a provare Attrazione Per persone Così tanto Giovani Questi due Che hanno Sì Residenza In zona Ma vivevano Comunque Distenti Cioè nel senso Erano due Scappati di casa Come si suol dire Proprio scappati di casa Loro vivevano La vita di strada Ora vivono La vita di carcere Comunque Esistenze Randagge Disperate Per le quali Servivano sempre Dei soldi Anche solo Per arrivare A fine Della giornata Un po' Per comprarsi La marijuana Un po' Per trovare Un posto Dove dormire Ogni giorno Visto che pellegrinavano Sempre in giro Età 20 e 21 anni E un po' Anche per mettere insieme Almeno un pasto Al giorno Ora io non conosco Il background Di Michele Ma sappiamo Che Douglas Di origini Brasiliane È stato adottato Insieme a suo fratello Da una famiglia Particolarmente Benestante Quindi tu Provieni Da una famiglia Benestante E fai la vita Di strada A cercare Di raccimolare Qualche euro Al giorno Per mangiare Che cosa ci dice Questo? Lavorare No Ovvio Lavorare Ma manco studiare Perché non erano Neanche studenti Erano proprio Nulla facenti Sì Uno dice Pensa che a fare Adottare Questo qua Però Provate anche A Mettervi Dal punto di vista Di questi due ragazzi Ragglass Ragazzi È gay O bisessuale Comunque sicuramente Anche gay La famiglia È benestante Io Non vorrei Fare due più due Troppo velocemente Ma Che una famiglia Benestante Sia anche Benpensante Non è così raro E avere Un ragazzo Che hai adottato Che ha solo Vent'anni Contra l'altro Dei precedenti Quindi vuol dire Che è da un po' Che fa la vita Di strada Mollato così In strada E nessuno Interveniva Mi fa Venire in mente Questa fantasia Ma potrebbe essere Una mia fantasia Un mio viaggio Quindi vi dico Qui siamo Nelle terre Dell'immaginazione Di Bugalalla Mi immagino Una famiglia Che pretendeva Molto Da questo ragazzo Che ha Rifiutato Il suo orientamento Sessuale E lui Ha preferito Fare la vita Di strada Piuttosto Che Essere Cambiato Nella sua natura Dai suoi genitori Sottostare Comunque Un mondo Di finzione Preteso Dai suoi genitori E in tutto questo Non c'è stata Una comprensione Da parte Della famiglia Ma Piuttosto che Un figlio Omosessuale Meglio un figlio Per strada Meglio morto Che omosessuale Mi viene in mente Una storia così E Non è certo L'unico A vivere Questa realtà Ne ho sentite davvero Tante Troppe Di storie così E quindi Secondo me Potrebbe Rientrare In questa Fattispecie Ma Ripeto Non ne ho Le fonti Lo sto immaginando Io Ora Loro due Erano diventati Migliori amici Diciamo che L'uno Era la Persona preferita Dell'altro Anche se Pare Non avessero Un rapporto Omosessuale Tra di loro Ma poco Ci interessa Erano Uniti Da I loro Problemi E dalle Loro Passioni I problemi Ovviamente Sono relativi Alle famiglie Si parla Di rapporti Estremamente Problematici Con le famiglie E le loro Passioni Erano I talent E la musica Loro Sognavano Di partecipare I talent Televisivi E di Sfondare Con La musica Tant'è Che Uno Dei due Se non sbaglio Proprio Douglas Ha calcato Il palco Di Webbo Non so se Conoscete Webbo È Una pagina Web Ma anche Social Dedicata Diciamo Alla generazione Z E Ciovanissime E Trattano Per lo più Di vicende Che riguardano Influencer Ho scoperto Solo Grazie a questo Caso Che fanno Anche Dei Conti Dei Talent Content Quello Fanno Dei concerti Delle sfide Tra i talent E Lui aveva partecipato Sì Volevano andare ad amici Volevano andare ai talent show Non so Purtroppo Lo conosco E ho smesso di seguirli Sinceramente No Io li seguo Su Instagram Ogni tanto Guardo Un po' Di gossip Però La maggior parte Delle persone Di cui parlano Non so Chi siano Loro ovviamente Vivevano Questo stile Di vita In cui Si sentivano Sburi Ad essere Fuck the system Ovvero Ci tenevano Tantissimo A ribadire Come loro Non accettassero Di entrare A far parte Del sistema Quel sistema Che vuole Che tu Vada a lavorare Per guadagnarti Da vivere Che tu Abbia Una vita Diciamo Incanalata In una sorta Di routine Di quotidianità Di normalità E loro Questa cosa Gli faceva schifo Quindi Fuck the system Piuttosto Vivo per strada Piuttosto A merda Ma non mi piego Ai dettami Della società Non mi piego Tradotto Alle aspettative Dei miei genitori Questa È La vera traduzione Ah un peccato Michele suona Il pianoforte Canta Avrei potuto Sfruttare bene Questo talento Vedi Grazie qui Per avermelo detto Perché non lo sapevo Mi stai dando Un sacco di info Preziosissime Ti ringrazio Ancora tantissimo Comunque Questi due Durante tutto Il mese Di indagini Oltre a Telefonarsi E parlare Dell'omicidio In maniera Veramente Stupida Hanno continuato A condurre La loro solita vita Come niente fosse E poi Per risparmiare Per risparmiare Anche perché Tante volte Non avevano Ulteriori soldi Da spendere Smezzavano Smezzavano L'italia È una cosa È una cosa che Mi manca Un casino Tra l'altro Durante questo mese Di indagini Che ovviamente Gli inquirenti Lì Osservavano Dicono Cosa fanno Mi immagino Discovery Channel Sappiamo che Li hanno uccisi L'hanno ucciso loro Ma Lasciano i liberi Ancora un po' Vediamo Cosa fanno Sono dei nonni A chiedere la paghetta Andando a distruggere Le prove Fanno Il telefono Dell'omicidio Mi immagino Così Comunque Continuavano Le loro solite Frequentazioni Incontravano I balordi Per strada Per chiedere Se conoscevano Dei ricettori E persino Al momento Dell'arresto Hanno mostrato Totale Indifferenza E non hanno Neanche invocato La loro innocenza Né sostenuto Come tutti Quando vengono Arrestati Che dicono Lei si sta sbagliando È tutto un errore È tutto un errore No Loro neanche quello Proprio Indifferenti Totali Questo Ha colpito Particolarmente Gli inquirenti Perché E anche i giornalisti Perché si fa Molta leva Proprio su questa Indifferenza Del vivere Come se questi due ragazzi Non fossero in contatto Mai con la realtà Della loro vita Quindi che va bene O che va male Chi se ne frega Sono totalmente Amorfi Completamente Demotivati Mi arrestano Fotte Sega Oggi Non ho i soldi Per mangiare Fotte Sega Ho ammazzato Uno Fotte Sega Cioè Così La vita Fotte Sega Come vi dicevo Uno dei due Era stato schedato Per una precedente Condanna Sempre Douglas Carolo Perché due anni fa Era stato condannato Per una rapina Ai danni Di una prostituta Che poi io dico Sei stronzo Sei un figlio Di Di puttana Scusate Però se lo merita Ma andrò qui A derubare Una prostituta Che già Poraccia Fa una vita Di merda Ora vai a derubare Sei uno stronzo Conosco uno Che lo ha fatto Ma poi Gli puoi dire Che è uno stronzo Anche da parte mia Puoi Da allora Mi ha fatto schifo Eh no Ci credo Allora gliel'hai già detto Bene Però Primo reato Pena sospesa Però intanto Era stato schedato Andrea Era in contatto Soltanto con Douglas E conosceva Diciamo più o meno bene Soltanto Douglas Mentre Michele Si è aggiunto Come amico di Durante quella serata E Si conoscevano Non perché Frequentassero Gli stessi ambienti Anzi Sono Il diavolo L'acqua santa Perché appunto Letteralmente Andrea Frequentava La chiesa Il volontariato L'oratorio E tutto Mentre Douglas Droga Strada Eccetera Però c'era Questa attrazione Nata Da un primo Avvicinamento Di Andrea Proprio perché Voleva aiutare Questa povera Anima persa Perché era Molto sensibile Verso le persone In difficoltà Come vi ho detto Faceva Volontariato Michele Sul suo profilo Instagram E TikTok Tra l'altro Appare particolarmente Orgoglioso Della propria Relazione Con una ragazza Sua coetanea Sono queste stories In cui si sbacciucchiano Sono le canzoni Di Blanco In sottofondo Quindi Da questo Si è dedotto Che i due Non fossero Una coppia Però Sapete com'è Non è detto È un indizio Non una prova Ma adesso Parliamo di quello Che loro Hanno dichiarato I due Stronzi Cos'hanno detto Allora Douglas Carolo Ha incontrato Il suo avvocato Vincenzo Sparaco Nel carcere Di Busto Arsizio Dove È detenuto E l'avvocato Ha riportato Questo Dice Il ragazzo Si dichiara Totalmente Estraneo Ai fatti Dice che si trovava Da tutt'altra parte Quella sera Io non c'ero Se c'ero Doro mio Insomma Cioè È stato ripreso Dalle telecamere C'erano le sue Cazzo di impronte Sulla scena del crime Ma lui non c'era No Ovvio Gli hanno rubato Le mani Gli hanno rubato Le mani Gli hanno messe No Oppure hanno fatto Dei guantini Con le sue Impronte digitali E Hanno usato I guantini Con le sue impronte Digitali Per lasciare Impronte ovunque Sulla scena del crime Ma non era lui Non era Lui hanno rubato Le mani È caduto Twitch No guarda Anche a me Mi ha caduto Twitch Dopo questo Infatti Pensavo a questi avvocati Che devono difendere Questi palesi colpevoli Infatti L'avvocato Non dice E il mio assistito Non era presente L'avvocato dice Il ragazzo Si dichiara Strano ai fatti E dice Che si trovava Dall'altra parte Un basciatore Non porta pena Buonanotte In discoteca A molestare Gli uomini Cioè non a molestarli Cioè tipo Facevamo degli esperimenti Inventati da me Puntualmente Ovvero Vediamo se funzionano I neuroni specchio Degli uomini Ovvero Mi metto a ballare Davanti a uno Alzando le braccia Vediamo se lui Alza le braccia Se lo fa Tu da dietro Gli fai il solletico Sotto le ascelle Queste erano le nostre serate Si divertivamo Quindi C'era una sera Dove Eravamo tutte in tiro Per andare In discoteca Eravamo per strada E Si affianca Una macchina Con dei ragazzi Che fa Fanno Belle Guardate con quei culi E lei ha risposto A cacà Suli mortacci tua Andiamo avanti Comunque Ovviamente Loro due Sono in carcere Ma l'indagine Non è assolutamente Chiusa Gli inquirenti Ovviamente Vogliono capire Chi dei due Ha sferrato La coltellata Anche perché Vero Che uno è complice Ma ci deve essere Un assassino Materiale E uno Che invece Ha Solo Fatto il complice Però ecco Le responsabilità Vanno assolutamente Chiarite Questo non lo sappiamo Perché al momento L'arma del delitto Non si trova E quella sarebbe Di rimente Perché ovviamente È un coltello Vedi di chi dei due Ci sono le impronte sopra E risolvi la questione Ma purtroppo Si è trovato tutto Meno che Quest'arma del delitto E quindi adesso I due ovviamente Si stanno Dando la colpa L'uno con l'altro Tra l'altro Gli inquirenti Vogliono anche scoprire Come abbiano vissuto Questi due In questo mese Se chi li ha Ospitati Nel loro Girovagare Perché comunque Sono stati anche A dormire A casa di amici E tutto il resto Se magari Queste persone Fossero a conoscenza Dell'omicidio E li hanno In qualche modo Favoriti Quindi c'è Del favoreggiamento Di In tutto questo Douglas Continua a sostenere La sua estraneità Ai fatti Non lo dice Soltanto Al suo avvocato Ma lo ribadisce Anche agli inquirenti Sostiene Di avere Un alibi E sostiene Di essere Stato a casa Di amici Facendo Facendo anche I loro Nomi E assicurando Agli inquirenti Che questi amici Sarebbero assolutamente Disposti a testimoniare Fornendogli appunto Sostegno Al suo alibi Ecco perché Chiaramente Si parla di Eventuale Favoreggiamento O meno Comunque No Lui non c'era C'erano le sue dita Ma lui no Che dite Capitare Ogni tanto Che dici Le dita Se ne vanno Senza di me Io ero A casa degli amici Le mie dita Erano sulla scena Di un crimine Succede Se ti chiami Douglas Carolo Ecco Michele Tra le due Tra i due Dal punto di vista Criminale Sarebbe l'infame No E' colui Che ha venduto L'amico Perché Per primo Ha Confessato Che sì Lui era presente Durante L'omicidio Infatti Dopo l'arresto Michele Ha collaborato Agli inquirenti In maniera Molto Parteceptiva Mentre Douglas Assolutamente No Ha continuato A mentire Sapendo di mentire Michele Invece è stato Collaborativo Lui ha detto Ha indicato Agli inquirenti Dove poter Trofare Delle prove Fondamentali Che erano state Abbandonate In un campo E qui Gli inquirenti Hanno potuto Trovare Il pesante Posacenere Di Andrea Usato Per stordirlo Quindi Gli inquirenti Lo sanno Ma noi no Sicuramente Avranno già Visto Quali impronte Digitali C'erano Sul posacenere E almeno Chi ha stordito Con il primo colpo Andrea Sanno Chi Chi è Ma noi Non lo sappiamo Ancora Poi hanno trovato Un bicchiere Su quale c'erano Delle impronte Quindi Da cui hanno bevuto Loro Hanno pensato Di togliere Il bicchiere Però C'è Ci vuole Della testa Della scena Del crimine Tu Facciucchi Con le dittate E dappertutto Lasci tutto lì Però Prima di andare Te ne dici Cavolo Ho bevuto Da quel bicchiere C'è il mio DNA Prendiamolo C'era un pensiero Voglio dire Almeno Qualcosa Hanno pensato Qualcosa Poi c'erano Le chiavi Di casa Di Andrea E c'era Uno dei due Cellulari Di Andrea Fatto a pezzi Chiaramente Perché loro Pensavano Dall'alto Dalla loro Furbizia Poi io mi dico La generazione Z Cazzo Almeno voi Cellulare Imparate Come Cazzo Si usa Loro Pensavano Che distruggendo Il cellulare Di Andrea Allora Avrebbero distrutto Le prove Dei loro Messaggi E certo Perché Whatsapp Web Non esiste Perché Aprire Whatsapp Su un altro Dispositivo Con le Crediziali È impossibile E quindi Distruggi Il positivo Fisico E sicuramente Distruggi I messaggi Tutto a testa Tutta a testa Tutta a testa Poi avevano anche Lasciato lì Una Loro scarpa Sporca di sangue Non so di chi Dei due Poi Michele Ha anche Riferito agli inquirenti Dove era stata Buttata L'arma del crimine Un coltello Da cucina Quello che vi dicevo Di appartenenza Di Andrea Che è stato Buttato In un tombino Ma Nonostante Abbiano Divelto Il tombino Hanno trovato L'arma È anche Passato un mese Quindi Sapete com'è I tombini Sotto Ci sono Scaffaggi I ratti Quelle creature Strane Che vivono Sotto i tombini I street shark Quindi Magari qualcuno L'ha spostato Qualcuno L'ha preso Poi dicevo Lui ha confermato Michele La sua presenza Sulla scena del crimine Ma A sua discolpa Dice Che Lui era lì Ma non sapeva Che C'era in programma Di derubare Andrea Quindi Lui pensava Di partecipare A questo festino A cui è stato Invitato Da Douglas Ma non pensava Minimamente Che Sarebbe finito In rapina Né tantomeno In omicidio Probabilmente Questo non lo sapeva Neanche Dario E quindi Di sostanzialmente Michele Sostiene Sostiene Che sia stato Douglas A uccidere A sangue Freddo Andrea Lui è rimasto Sciocco Basito Frezzato Impossibilizzato A intervenire In qualunque modo Anche perché È stata Una sola coltellata Quindi Potrebbe anche Essere credibile Questa versione E lui dice Di essere Semplicemente Trovato Nel posto Sbagliato Al momento Sbagliato Quella persona Sbagliata Insomma Una serie Di Fraintendimenti Come direbbe Chiara Ferragni Dopodiché Però È rimasto In silenzio Per un mese Comunque Continuando a fare La sua vita Frequentare Douglas E tutto il resto Quindi Come mai Se sei così Tanto innocente Non hai subito Denunciato Il tuo amico Ma lui Ha una pronta Risposta Perché Douglas Lo avrebbe minacciato Di fargli fare La stessa fine Di Andrea Ovvero Di coltellarlo E ucciderlo E Michele Avendo visto L'amico Farlo a sangue freddo Aveva il terrore Che sarebbe stato Capacissimo Di rifarlo Quindi Terrorizzato Sotto minaccia Non avrebbe Parlato Per tutto questo tempo Velocissimi Vi do La notizia Di un Quello che Bugalalla Chiama Maschicidio Non ci sono foto Mi dispiace Non Sono solo foto Dei carabinieri Che indicano cose E ho detto Che non avevo voglia Di farci la cornice Quindi ho detto Doskenit Le megnite Quindi Nel tardo pomeriggio Di lunedì 4 marzo Il povero Vincenzo Silvestri Un uomo Di 60 anni Viene trovato In fin di vita Che poi morirà In ospedale Da lì a poco Nella sua casa A Ischitella In provincia Di Foggia È stato ucciso Con diverse Coltellate Da quello Che all'inizio Sembrava Uno sconosciuto Qualcuno Di punto interrogativo Ignoto Uno Infatti inizialmente Il caso Sembrava Un giallo Ma nelle ore Successive Gli inquirenti Sono riusciti A risalire Al killer Ovvero La persona Che è stata trovata Sulla scena del crimine Di fianco a lui Imbrattata di sangue Io non so Cioè Nel senso Non so come Abbia potuto Rimanere un giallo Così Però Capita Dici Quando uno Non è sicuro Prima di dirlo Dici giallo Poi dopo dici Ecco Vedi E sto Ognuno È suettino Ora Di chi sto parlando Della compagna Ana Toader Che è una donna Di origini rumene Di 39 anni Che lo ha ucciso Con due coltellate Una al torace E una al collo Una sudata Per trovarla E' stata tra l'altro Lei a chiamare i soccorsi Ed è stata trovata Accanto alla vittima Che moriva di sanguata E lei piena di sangue Quindi insomma Non è che c'erano Troppi dubbi Ma va bene Inizialmente Ha negato Ogni coinvolgimento No ma io non solo Soccoro Sono sporcata Per soccorrelo Non so Chi l'abbia Aggredito Questo sconosciuto Poi Al termine Di una notte Fitta Di interrogatori Alla fine Ha ceduto E ha vuotato Il sacco E ha raccontato Anche se non è Molto collaborativa Con gli inquirenti Quindi non sta Dicendo Tutto Ma neanche La metà Ha detto Che lo ha colpito Al culmine Di una lite Per questioni Di gelosia E possessività Quindi Lei Era gelosa Di lui E l'ha Ucciso Per gelosia Perché temeva Che lui La tradisse In piena regola Femminicida Ma qui Paroli invertiti Quindi Possiamo chiamarlo Maschicidio Perché io Non mi vesto mai Di rosa È un colore Che ho sempre pensato Mi stesse male Per i capelli rossi Poi sono andata A fare shopping Con questa mia amica Come ha detto Se non ti sta bene Se non ti sta bene L'ho provato Mi stava bene Ho detto Vedi ma Sono anche un po' Barbie Quindi Ho preso Il toppettino sotto Con il maglioncino Sopra Così Per i più Con lo sguardo Più Più Raffinato C'è il vedo Non vedo No Tutto un po' E vabbè Sembra un muffin Perfetto Grazie Vi sfido Vi sfido Questa Test cognitivo Che cos'è? E soprattutto Perché? Allora io ti do Amanda Nox Se tu mi dai Kiko Forti No ce lo passo Per poter sopravvivere ed esistere Lo stalker ha bisogno della vostra attenzione Crea falsi profili per poter diffondere fake news E far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità Lo stalker contatta i vostri amici I vostri parenti E i vostri colleghi di lavoro Con toni gentili Per far credere di essere colui che li mette in guardia sul vostro conto Lo stalker vi spia E vi fa spiare Per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita Ovvero Il controllo Ricordate Lo stalker Si nutre della vostra paura Della vostra frustrazione Della vostra ira Per cui Grazie a tutti Grazie a tutti